10 luglio 1921, 10 luglio 2021, a 100 anni dalla nascita tante sono le manifestazioni che ricordano Remo Gaspari, esponente di spicco della democrazia cristiana, parlamentare dal 1953 al 1994 e soprattutto più e più volte ministro della Repubblica Italiana, Sanità, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Difesa, solo per citare alcuni dei dicasteri presso i quali è stato incaricato. Stamani è stato emesso un francobollo, valido per la posta ordinaria, con un ritratto fotografico di Remo Gaspari. A Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, anche il Consiglio regionale, con una cerimonia, ha ricordato il politico originario di Gissi, evento cui hanno preso parte tra gli altri il figlio Lucio, il sindaco del piccolo centro del Chietino Agostino Chieffo e l'ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Ho visto quanto fosse profonda la capacità di governo di Gaspari e come in ogni ministero avesse lasciato un indirizzo, un'indicazione, avesse aperto una strada nuova. Quindi un uomo di governo che rivendicava la sua dimensione abruzzese ma che ha avuto nella storia d'Italia un tratto importante e un impegno importante. Passione politica che era forte perché genuina e anche per questo portava forse in qualche momento alla contrapposizione, ma una contrapposizione che è stata sempre feconda per l'Abruzzo e che non è stata mai personalistica. Quindi è doveroso il ricordo. Mi fa piacere che qui nell'aula del Consiglio regionale dell'Abruzzo oggi a pochi giorni di distanza dai dieci anni della morte come ha ricordato Menna e nell'anno del centenario della nascita l'Abruzzo senta il dovere di ricordare Remo Gaspari. È stato un grande abruzzese, è stato un grande italiano, gli deve molto l'Abruzzo e gli deve molto l'Italia.